. Si continua a parlare del presunto flirt tra la Dursa e il vincitore del GF 15, interviene anche Mara Bernier. . In queste settimane non si fa altro che parlare del presunto flirt in corso tra Barbara Dursa e il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello, Alberto Mazzetti. . Il concorrente, durante la sua permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia, non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti della padrona di casa del GF e, dopo la sua vittoria, è riuscito a strapparle un invito a cena. . I rumors sul flirt si moltiplicano sui giornali e ieri sera anche Mara Vennie ha provato a mettere in difficoltà la sua amica Barbara Dursa chiedendogli apertamente se si fosse fidanzata con Alberto. Mara Vennie mette in difficoltà Barbara Dursa, sei fidanzata con Alberto del GF? . Ieri sera Mara Vennie e Barbara Dursa erano ospite alla festa di Gina Lollobrigida, così come testimoniato dalle stories che la conduttrice di pomeriggio 5 e domenica live ha caricato sul suo profilo ufficiale Instagram. . Le due conduttrici si sono divertite a caricare dei video dove si stuzzicava una vicenda e ad un certo punto la Vennie ha fatto una domanda a bruciapelo alla Dursa inerente al suo flirt con Alberto. . . Ma è vero che ti sei fidanzata con Alberto del Grande Fratello? Ha chiesto la Vennie nel video caricato poi su Instagram. . La reazione di Barbara Dursa non si è fatta attendere e, visibilmente in imbarazzo, la conduttrice partenopea ha risposto con un ma allora sei scemo, scoppiando a ridere con la sua amica e con Lela. . Insomma, la Dursa non ha smentito il rumore che impazza ormai in queste ore su tutte le riviste di gossip, ma si è lasciata andare semplicemente ad una grassa risata con la sua amica Mara, senza entrate nei dettagli della fantomatica love story che sarebbe in corso con il vincitore dell'ultimo Grande Fratello Nip trasmesso su Canale 5. . A settembre la sfida in tv tra Barbara Dursa e Mara Vennie. Quale sarà a questo punto la verità? Si vocifera che Alberto recentemente sia stato anche ospite a casa della Dursa per una cena con amici, così come avrebbero intuito gli attentissimi fan del vincitore del GF da una serie di stories postate sempre online. . Intanto, Mara Vennie e Barbara Dursa si preparano ad affrontare la sfida che le attende dal prossimo mese di settembre. Le due conduttrici, infatti, saranno l'una contro l'altra in tv. La Vennie ritorna al timone di domenica in dopo il flop di ascolti di Cristina Parodi, mentre Barbara Dursa riprenderà in mano le redini della sua collaudata domenica live. Quest'anno ha registrato picchi di ascolti incredibili con una media di oltre 3 milioni. .